A Carrù dal 12 al 15 dicembre sarà protagonista la carne bovina piemontese in occasione dell'edizione 109 della Fiera Nazionale del Buegrasso, recentemente presentata presso i locali dell'ATL del Cunese, dove era presente fra gli altri anche il sindaco di Carrù, Stefania Leriti. Tantissime novità, intanto quattro giorni, una grandissima novità questa, non più un giorno di fiera ma quattro, quindi dal 12 al 15 dicembre con sia il 12, sia il 14 che il 15 dicembre la presenza dei bovini di razza piemontese, in particolar modo il 12 tutte le categorie di esclusione dei buoi, il 14 invece sabato l'asta mondiale, quindi con 5-6 capi bovini di razza piemontese tra manzi e buoi che appunto saranno aggiudicati al miglior offerente. Il 12 quindi il primo giorno di fiera la iniziamo con la colazione del contadino, quindi alle 5 e mezza tutti ben pimpanti a Carrù per questo pranzetto molto leggero che darà il via a questi quattro giorni di fiera, di grande baldoria, ma anche di grande lavoro, di grandi sacrifici comunque che ci stanno dietro all'allevamento di questi animali. Per cui giovedì mattina questo appuntamento che ormai è diventato un must e poi replicheremo la domenica 15 quando appunto ci sarà questo secondo momento di fiera dove avremo però in esposizione e in premiazione solo i buoi. Giorno 13 il momento più culturale per la fiera con al mattino un convegno organizzato dal Centro Unesco e alla sera l'appuntamento con la consegna del Buedoro che quest'anno raddoppia, per cui non solo quadruplichiamo i giorni di fiera ma raddoppiamo anche il premio. Buedoro che quest'anno verrà conferito innanzitutto al ministro carruccese, all'onorevole Fabiana Dadone, poi il secondo premio segue un po' il filone degli anni precedenti, una tematica molto particolare, l'uranio impoverito. Testimonial è il colonnello Carlo Calcagni, un atleta anche parolimpico, che ha ribaltato sullo sport una modalità di rivincita perché andando in una missione di pace nei Balcani si è ammalato, ha contaminato con l'uranio impoverito e adesso sta lottando. Eppure nonostante ciò lui dice che non bisogna mai arrendersi, anche quando la vita sembra davvero difficile e impossibile, bisogna andare avanti e cercare di vincere. Ed ecco perché proprio per la serata del 13 avremo un convegno con il titolo A ogni sfida bisogna rispondere, noi non ci arrendiamo. Presente anche Gino Nasari, presidente della Proloco di Carrù. Una sinergia tra Comune, Proloco, tutte le altre associazioni di volontariato di Carrù. Abbiamo organizzato tutta una serie di eventi collaterali che principalmente sono eventi culinari. I prossimi appuntamenti saranno l'8 dicembre il pranzo delle eccellenze. Durante questo pranzo serviremo delle eccellenze non solo carrucesi, ma anche del territorio vicino al nostro paese. Poi proseguiremo il 14 dicembre con l'ultimo Gran Galà del Bollito e intervallati questi eventi da il giorno 12 dicembre ed il giorno 15, che sono i giorni clou, diciamo, della Fiera Nazionale del Buegrasso, con l'entennale evento che si chiama Bollito Non Stop. Una distribuzione di Bollito dalle prime ore del mattino fino a tarda serata, di solito o a esaurimento scorte o a esaurimento forze.